Siamo studenti dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. La situazione da noi è tragica. Da più di due mesi studenti e docenti sono stati abbandonati a loro stessi. Siamo privi di una guida per affrontare questo periodo di emergenza. La didattica a distanza è attiva, ma non abbiamo né una piattaforma e-learning ufficiale che tuteli la privacy, né delle vere e proprie linee guida. I docenti si sono dovuti arrangiare come meglio hanno potuto. Non è stata effettuata nessuna distinzione tra materie teoriche e laboratoriali. Sono state tutte completamente ridotte a lezioni online, senza la garanzia di un recupero in sede. Così facendo si viene a perdere la pratica, che è il cuore della nostra formazione artistica. Non possiamo frequentare tutte le lezioni previste per il secondo semestre, perché 40 docenti non sono ancora stati nominati e gli insegnamenti sono rimasti vaganti. Purtroppo questo significa non poter fare esami, col serio rischio di perdere borsa di studio, alloggio e mezza. Diritti irrinunciabili per la nostra formazione. Questa situazione era presente anche prima del lockdown. Infatti già da ottobre alcuni di noi non hanno potuto frequentare i corsi. Addirittura alcuni indirizzi hanno ricevuto un solo insegnamento durante tutto l'anno e non sappiamo né come né quando li ricopereremo. È vero. Tutte le Accademie d'Italia quest'anno hanno visto forti disagi derivanti dai ritardi ministeriali. Ma solo nella nostra Accademia abbiamo sperimentato una totale mancanza di cura e attenzioni nei confronti della didattica. È vergognoso. Siamo a maggio, alle porte della sessione estiva, e non sappiamo neanche come né quando si svolgeranno gli esami. La sessione di laurea di marzo è stata sospesa per via dell'emergenza, ma noi stiamo ancora aspettando. Questo significa perdere molte opportunità e dover rinunciare ai propri progetti futuri. Mancoliamo il buio. Quello che manca è comunicazione e trasparenza. Abbiamo denunciato più volte la situazione, senza nessun riscontro. Abbiamo scritto numerose lettere alla direzione, agli organi accademici. Niente. Nessuna risposta. Abbiamo scritto addirittura al ministro dell'Università e della Ricerca per denunciare questa grave situazione che stiamo vivendo. La lettera è stata firmata da 311 studenti, più della metà dell'intero corpo studentesco. Tutto questo è inaccettabile. Vogliamo rispetto. Vogliamo l'istruzione, i servizi per i quali stiamo pagando e che non ci vengono offerti. Vogliamo risposte, perché è da mesi che cerchiamo di comunicare, ma dall'altra parte non c'è nessuno che ci dia ascolto. Solo silenzio. Noi vogliamo avere una formazione dignitosa. Vogliamo poter studiare senza doverci preoccupare. E vogliamo sentirci fiere di appartenere a questa istituzione. Ma tutto questo ci viene negato. Siamo gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Lezze e appartenere a questa istituzione non ci rende studenti di Serie B. Siamo stanchi. Vogliamo una didattica adeguata e la possibilità di poterci formare e imparare per essere i professionisti e gli artisti di domani. Vogliamo ciò che ci spetta. E non rimarremo qui in silenzio e immobili a guardare chi calpesta tutti i nostri diritti. Grazie a tutti.